Bentornati in un nuovo video, oggi vi mostrerò come installare Adobe Photoshop Touch su tutti i dispositivi con Android superiore al 9, quindi 9 e 10. Per prima cosa andate nel link che trovate in descrizione e scaricate questa applicazione aspettando 15 secondi. Dopodiché si aprirà un link di Mega e qui potremo andare a scaricare il nostro file in maniera abbastanza veloce. Andiamo a salvarlo, ok. Una volta scaricato andiamo ad installare la nostra applicazione. Se non avete abilitato l'installazione dalla fonte Google Chrome o il browser che usate andate ad attivarla e installatela. Dopodiché l'apriamo e gli consentiamo i permessi, le autorizzazioni. Lui ci dirà che per una versione meno recente ma non diamo ok e andiamo avanti. Diamo tutte le varie impostazioni ed ecco qui che abbiamo il nostro Photoshop sul telefonino.